Buonasera a tutti. Cominciamo questa prima lezione parlando delle operazioni in N e delle loro proprietà. Una lezione molto semplice ma base con cui cominciare il nostro percorso di lezione di ripasso di matematica. Cos'è N? N è l'insieme dei numeri naturali, cioè l'insieme dei numeri positivi interi. Quindi 0, 1, 2, 3 e così via. Le operazioni sono le quattro operazioni, addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione. Quindi ripassiamo alcuni concetti che sicuramente i nostri figli avranno affrontati, incontrato già alle scuole medie. Anzitutto l'addizione è un'operazione interna ad N. Cosa vuol dire interna ad N? Vuol dire che la somma di due numeri naturali è sempre un numero naturale, quindi un numero intero positivo. E gode della proprietà commutativa. Cosa vuol dire proprietà commutativa? Vuol dire che se io faccio A più B, dove A e B sono due numeri naturali, è come fare B più A. Quindi i due termini dell'addizione si possono invertire e il risultato non cambia. Se infatti faccio 2 più 3, che fa 5, è esattamente la stessa cosa che fare 3 più C, più 2, scusate. Proprietà commutativa. L'addizione gode poi della proprietà associativa. Cioè, io posso fare una cosa di questo tipo, apro la parentesi, A più B, chiudo la parentesi tonda, più C. E' la stessa cosa che sommare A più, aperta parentesi, B più C. Quindi, facciamo un esempio, se io faccio, apro la parentesi, 2 più 3 e poi sommo, ad esempio, 5, è esattamente la stessa cosa che fare 2 più, apriamo la parentesi, 3 più 5. Il risultato non cambia, 2 più 3 fa 5, 5 più 5 fa 10, 3 più 5 fa 8, sommo 2 fa sempre 10. L'addizione gode infine della presenza dell'elemento neutro, cioè quell'elemento che non cambia il risultato all'interno di una somma. L'elemento è lo 0. Se infatti faccio A più 0, è esattamente come fare 0 più A, ricordiamoci la proprietà commutativa, ma il risultato è esattamente uguale ad A. 0 non cambia il risultato di una somma. Passiamo alla sottrazione e vediamo quali sono le proprietà caratteristiche della sottrazione. Innanzitutto la sottrazione è un'operazione che non è interna ad N. perché se io faccio ad esempio 5 meno 7 uguale a che cosa? Beh, sicuramente a qualcosa che non è un numero intero positivo, quindi non è interna all'insieme dei numeri naturali. Per adesso ci fermiamo qui. E non è nemmeno commutativa. Io non posso fare infatti A meno B uguale a B meno A perché facciamo un esempio 3 meno 2 è diverso da 2 meno 3. Nel primo caso 3 meno 2 fa 1, nel secondo caso 2 meno 3 fa meno 1, che non è neppure un numero naturale. quindi non è un'operazione commutativa, o meglio, non gode la proprietà commutativa. Non è nemmeno associativa. Vediamo anche in questo caso un esempio. Se facciamo 5 meno 3 all'interno delle parentesi tonde, meno 2, il risultato che adesso andremo a verificare è diverso da 5 meno, apriamo poi la parentesi, 3 meno 2. Nel primo caso 5 meno 3 fa 2, 2 meno 2 è 0. Quindi questa prima parte è 0. Nel secondo caso abbiamo 3 meno 2 che fa 1, 5 meno 1 è 4. Quindi vedete, due risultati completamente diversi, non è associativa. Gode invece di un'altra proprietà interessante, che è la proprietà invariantiva. Cosa dice la proprietà invariantiva? Dice che la differenza tra due numeri naturali non cambia se entrambi si aggiunge o si toglie uno stesso numero, purché sia possibile effettuare ovviamente la sottrazione in N. Cosa vuol dire? Allora, vuol dire che io posso fare A meno B ed è esattamente uguale A A più C meno B più C Quindi facciamo un esempio. Facciamo ad esempio 7 meno 3 è uguale a 7 ad esempio più 1 meno 3 più 1. Quindi ho sommato a entrambi i due numeri al entrambi appunto a 7 e 3 entrambi i due numeri naturali che sono andando a sottrare lo stesso numero. 7 meno 3 quanto fa? 4 verifichiamo che sia la stessa cosa 7 più 1 fa 8 3 più 1 fa 4 8 meno 4 fa 4 quindi abbiamo dimostrato che la sottrazione è invariantiva rispetto alla somma. possiamo dimostrare altresì che è invariantiva anche rispetto alla differenza. Quindi potrei andare a sottrare anziché sommare 1 a entrambi i due numeri naturali se ci fosse il meno avrei 7 meno 1 6 3 meno 1 2 6 meno 2 ancora 4 quindi anche in questo caso vedete che è la sottrazione invariantiva anche rispetto appunto alla alla differenza. Procediamo procediamo adesso con la moltiplicazione allora la moltiplicazione è una scusate un'operazione interna ad n ossia il prodotto di numeri naturali è sempre un numero naturale abbastanza ovvio godo della proprietà commutativa perché noi possiamo fare a per b ed è la stessa cosa che fare b per a se facciamo 2 per 3 che fa 6 esattamente uguale a fare 3 per 2 che è sempre 6 2 per 3 se lo esplodiamo è come fare 2 più 2 più 2 che è uguale a fare 3 più 3 ok gode poi della proprietà associativa quindi possiamo fare a per b per c è come fare a per b per c esempio 2 per 3 che fa 6 il tutto moltiplicato per 5 che fa 30 esattamente la stessa cosa che fare 2 per 3 per 5 3 per 5 fa 15 per 2 30 a l'elemento neutro esiste un elemento neutro che è il numero 1 infatti possiamo fare a per 1 che è esattamente la stessa cosa proprietà commutativa di 1 per a che è proprio a d'accordo? quindi 1 è l'elemento neutro dopodiché gode di un'altra proprietà di una proprietà nuova che è la proprietà distributiva sia rispetto all'addizione che rispetto alla sottrazione sia a sinistra che a destra cosa vuol dire? vado qua sotto perché ho poco spazio vuol dire che io posso fare una cosa del tipo a per b più c facciamo la proprietà distributiva rispetto all'addizione la sottrazione è esattamente la stessa cosa è come fare a per b più a per c ok? questa è distributiva a sinistra posso anche fare una cosa del tipo a più b il tutto per c ed è uguale a fare a per c più b per c e qua è la proprietà distributiva a destra facciamo un esempio almeno nel primo caso 2 per che ne so 10 più 5 10 più 5 fa 15 per 2 30 esattamente uguale a 2 per 10 che fa 20 più 2 per 5 che fa 10 20 più 10 è sempre 30 analogamente potete dimostrare la proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto alla somma a sinistra analogamente vale anche la proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto alla alla differenza quindi per rendere generico quanto abbiamo detto possiamo andare a scrivere così ok quindi a per b più o meno c è la stessa cosa che fare a per b più o meno a per c a più o meno b per c è uguale a fare a per c più o meno b per c da ultimo vediamo quella che è la legge di annullamento del prodotto cosa vuol dire vuol dire che se a per b è uguale a 0 o meglio a per b è uguale a 0 se e solo se se e solo se a uguale a 0 oppure b uguale a 0 uno dei due fattori deve essere uguali a 0 concludiamo e vediamo adesso le proprietà della divisione la divisione è un'operazione che non è interna ad n perché perché se ne facciamo 5 diviso 2 uguale a che cosa a un qualcosa che ha la virgola un numero con la virgola quindi non siamo più all'interno dei numeri naturali non è commutativa perché se io faccio 4 diviso 2 è diverso da 2 diviso 4 non è associativa perché se io faccio 12 diviso 6 ad esempio diviso 2 è diverso da fare 12 diviso 6 diviso 2 vediamo 12 diviso 6 fa 2 2 diviso 2 fa 1 qua cos'è 12 diviso 6 diviso 2 quindi 6 diviso 2 fa 3 12 diviso 3 4 4 1 diverso ovviamente da 4 è una proprietà scusate un'operazione che gode della proprietà distributiva però distributiva ma solo a destra ma non a sinistra rispetto sia all'addizione che alla sottrazione cioè noi possiamo andare a scrivere una cosa del tipo a più o meno b diviso c è uguale ad a diviso c più o meno b diviso c facciamo un esempio facciamo 99 facciamolo prima col più più 9 diviso 9 è la stessa cosa che fare 99 diviso 9 più 9 diviso 9 la stessa cosa se a posto del più ci mettiamo il meno ok 99 meno 9 ad esempio fa 90 90 diviso 9 fa 10 99 diviso 9 fa 11 meno 9 diviso 9 fa 1 11 meno 1 9 ne abbiamo dimostrato la proprietà distributiva a destra non vale non vale invece la proprietà distributiva a sinistra lascio a voi la dimostrazione gode poi della proprietà invariantiva cioè il quoziente di due numeri non cambia se dividendo il divisore vengono moltiplicati o divisi entrambi per uno stesso numero diverso da 0 purché ovviamente la divisione sia possibile in n cioè facciamo un esempio facciamo sempre il nostro 99 che ci piace tanto diviso 9 ad esempio è esattamente uguale a 99 per 3 ad esempio moltiplico per uno stesso numero diviso 9 per 3 che è anche uguale a 99 diviso 3 diviso 9 diviso 3 lascio a voi dimostrarlo risolvendo queste piccole operazioni infine concludo con un'osservazione la divisione o meglio una divisione in cui il divisore sia 0 ricordiamoci che non è definita quindi 6 diviso 0 punto di domanda non è definita no ne definita che è ben diverso da scrivere o fare 0 diviso 6 che invece dà come risultato 0 bene terminiamo qui questa veloce lezione di ripasso sulle operazioni in n quindi all'interno dell'insieme dei numeri naturali e sulle loro principali proprietà grazie per l'attenzione e buona serata attraffa per l'attenzione che vora per l'attenzione Grazie a tutti